Ci hanno attaccato, ci hanno infangato, in ragione del nostro impegno per la pace hanno cercato anche di dividerci e addirittura di emarginarci e buttarci fuori dal Parlamento. Ma noi siamo sempre qui, più determinati di sempre, per riporre tutto il nostro impegno, tutte le nostre forze per una via d'uscita, a partire dal conflitto russo-ucraino, per impostare faticosamente dei negoziati di pace, che sono l'unica soluzione possibile rispetto invece a questo invio di armi ad oltranza, a questa escaloscia militare che invece non ci pone via d'uscita. Siamo stati peraltro l'unica forza politica italiana che ancora qualche settimana fa ha votato coerentemente su questo punto al Parlamento europeo. E questo vale anche per Gaza, dove sin dall'inizio abbiamo detto che pur comprendendo l'attacco terroristico ignobile di Hamas del 7 ottobre, non è possibile una strategia militare come questa che il governo Netanyahu sta conducendo con una carneficina inaccettabile a Gaza e addirittura nelle prossime giorni, forse anche a Rafa. Noi dobbiamo assolutamente impostare una svolta.